Gentili telespettatori, buona giornata. Letta torna alla carica e batte il tasto delle ingerenze russe sulle elezioni politiche del 25 settembre e il centrodestra dice ma sono illazioni di un disperato. Il centrodestra è in vantaggio, probabilmente vincerà, la sinistra sa già che perderà perché ha meno votanti del centrodestra, non ha un programma politico, basa la sua campagna elettorale sul non votate Meloni. Pericolo per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, per il pianeta. Ovviamente un partito che punta tutto sul non votate gli avversari, insomma, un elettore del PD che dice dai dai che vinciamo così impediamo alla Meloni di governare. Cioè poi il giorno dopo? Eh, poi il giorno dopo si vede. Non è molto edificante una roba del genere. Avrebbero dovuto dire noi siamo forti sul programma e vogliamo anche fermare la Meloni, fermarlo con il nostro programma, non solo nel dire fermiamola. Ecco, per che eletta sia disperato io credo che sia ormai rassegnato, più che disperato rassegnato. Le ingerenze straniere sul voto, tentativi di ingerenze sicuramente ci sono stati, ci sono e ci saranno in tutte le elezioni del mondo, ci sono tentativi di ingerenze di stati esteri, stranieri, sicuro. Ma che realmente possano condizionare il voto? No. Come diceva Salvini, in questo gli do ragione, sono gli italiani che il 25 settembre vanno a votare, gli stranieri possono dire quello che gli pare, ma sono poi gli italiani che vanno a votare. E non va a spostare il voto perché un giornale straniero dice questo o quell'altra cosa. Già gli italiani fanno fatica a star dietro alle panzanate, alle promesse da marinaio che fanno i politici. Figuriamoci se gli italiani vanno anche a sentire cosa dice il giornale, che non sanno manco come si chiama, ha scritto un articolo da un giornalista sconosciuto. Ovviamente no. Naturalmente un PD, un'area politica che basa la sua campagna elettorale sul contrastare e fermare gli altri, solo su quello, ovviamente batte tutti i tasti di questo aspetto. E uno dei tasti da battere è proprio anche quello delle ingerenze russe sulle elezioni politiche. Se dovesse vincere il centrodestra sarebbero capaci anche di dire che è stata la Russia a fare vincere il centrodestra perché hanno fatto ingerenze. Il centrodestra dice che sono illazioni di disperate, di un politico disperato. Ma Letta dice che la Russia è entrata in questa campagna elettorale. Ma lascia perdere Letta, ma quale è entrata nella campagna elettorale? E lo va a raccontare, ecco, siamo di nuovo a Letta che va a screditare l'Italia, va in Spagna a raccontare che la Russia è nella campagna elettorale italiana. Aggiungendo, c'è questa forte ingerenza a favore della destra perché il governo russo sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin. Ma la Meloni mi sembra che su questo sia stata abbastanza chiara. Noi siamo che l'Europa, noi siamo con gli alleati, siamo con la Nato, siamo con l'Euro, siamo con tutto quello che è Occidente. La Meloni è stata assolutamente chiara, certo c'ha due compagni di viaggio, Berlusconi, l'amico di Putin, e Salvini, il cheerleader di Putin, quello delle magliette e delle foto messe a casa sua, insomma. Certo, certo non aiuta avere due personaggi del genere, poi soprattutto con un Salvini che ieri diceva togliamo le sanzioni alla Russia. Ecco, il governo manco è cominciato e Salvini già chiede di togliere le sanzioni. Capite che nonostante la Meloni possa continuare a mandare messaggi di un certo tipo in Europa, abbiamo poi il cheerleader e l'amico di Putin che, insomma, sarà difficile per Giorgia Meloni gestire soprattutto Salvini e Berlusconi. Letta non sarà un problema per un governo Meloni, Renzi, Calenda, non saranno un problema, saranno persone che sui social un giorno sì e un giorno pure attaccheranno il governo, ma realmente chi è all'opposizione non può far altro che criticare e commentare ogni cosa che fa il governo, che è quello che ha fatto la Meloni all'opposizione, ha commentato le scelte del governo, le ha criticate. Ecco, quindi se ci sarà un governo Meloni, il problema non saranno quelli di sinistra che su Facebook scrivono le loro cose, il problema sarà Salvini e Berlusconi che già dal primo giorno, Salvini che vuole sempre comandare, dal primo giorno dirà bene Meloni, allora domani facciamo subito decreti sicurezza, la legge Fornero e facciamo la flat tax. Il giorno dopo Salvini andrà dalla Meloni a chiedere tutto quello che ha raccontato nel programma, cose per le quali i soldi non ci sono. Se Salvini vuole cancellare la legge Fornero prima di dicembre, che c'è da fare la finanziaria, la finanziaria e non ci sono soldi, o magari c'è qualcosa e bisogna tagliare le bollette, ha voglia di cancellare la legge Fornero, la flat tax. Insomma, capite che quando i soldi non ci sono, o ce ne sono pochi e quei pochi serviranno magari per tagliare un po' le bollette che raddoppieranno, a quel punto la Meloni avrà un problema con Salvini che continuerà a chiedere soldi, come sta facendo oggi, che vuole altri 30 miliardi da dare agli italiani, e che non ci sono. Il problema è questo, anche a me piacerebbe dare 50 miliardi fra 5 minuti agli italiani. Dice, lo Stato ce li ha, al posto che tenerseli nel cassetto li dà agli italiani, visto che hanno sempre pagato le tasse e adesso ne hanno bisogno. Il problema è che non ci sono soldi, perché c'è stata una gestione allegra dell'economia italiana nei decenni. Gestione allegra che ha portato il debito pubblico oggi al 147%. E così, il problema della Meloni sarà proprio gestire Salvini, che tutti i giorni chiederà soldi e vorrà piazzare le sue bandierine elettorali. La Meloni gli dirà, non ci sono soldi, sì, no, li prendiamo da qui, li prendiamo da là, ma quel prendiamo qui e prendiamo là di Salvini sono dette da una persona che non sa di conto economico dello Stato. Per Salvini è tutto semplice, no? Devo farla, prendi soldi, o fai debito. Ho promesso di cancellare la legge Fornero, bisogna cancellarla. Come? E facciamo debito. Troppo superficialotto il facciamo debito, no? Diceva, vogliamo andare alle Maldive, non ci sono soldi, e facciamo un debito in banca. Comprare la macchina nuova, ma non ci sono soldi, facciamo un debito in banca. Se tu hai una banca che ti presta sempre soldi, e quando non li hai per pagare il debito, gli chiedi un altro debito e te lo dà, immaginatevi come se l'Italia fosse una famiglia che ogni cosa che chiede alla banca, la banca gli dà soldi. Sempre e comunque. Arriva il momento che poi la banca ti dice, sei fallito, ti requisisco tutto. Bene, grazie a tutti e arrivederci.